la federazione di luce di blossom good child 23 ottobre 2022 traduzione marina salve amici miei da dove partiamo possiamo cogliere questa opportunità divina ancora una volta per dare il benvenuto a ognuno in questa conversazione perché non è solo con te blossom è una conversazione all'interno dei cuori di tutti perché desideriamo toccare profondamente la luce di ogni anima che si trova sul vostro pianeta in questo momento bella introduzione vorremmo parlare del messaggio vocale che vi abbiamo consegnato non molto tempo fa sceglieremo di chiamarlo una mail energetica perché confidiamo che abbia innalzato la vibrazione a una frequenza più alta dell'amore l'amore che siete l'amore che scorre nelle vostre vene amore 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 state iniziando a riconoscervi carissimi sentite la connessione all'interno della vostra essenza che vi aiuta a sentire la conoscenza di chi siete guardate indietro solo di qualche anno come suggeriamo sempre quanto siete diventati più leggeri in che misura avete lasciato andare le preoccupazioni che vi appesantivano ora sapete meglio sapete che sapete la vostra pazienza è diventata paziente comprendete la forza vitale dentro di voi che è della più alta vibrazione d'amore sapete come manovrarla e farla fluire in tutto il vostro essere avete lasciato andare le banalità che un tempo ritenevate una necessità ma ora il vostro buon sé ha sciolto le catene perché siete voi che avete tenuto le chiavi per tutto il tempo carissime anime divine ora 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 sentite l'intensa intenzione che giace in voi l'intenzione che è stata incapsulata nel vostro sé anima quando siete nati nella vibrazione del mondo sì lo sentite lo sentite ora conoscete la vostra missione sapete che indipendentemente dal modo in cui questo spettacolo film evento teatrale si presenta a voi che dal profondo della vostra conoscenza avete tutte le risposte a ogni domanda tuttavia vi chiediamo di considerare la possibilità di abbandonare queste domande considerate di abbandonare i pensieri che vi abbattono le domande che non hanno risposta sono ora pronte a sollevarsi dalla vostra consapevolezza e a lasciarvi in sincronia con la vostra energia divina che desidera essere libera di portare a termine il compito per cui siete venuti sulla terra adesso sapete che è giunto il momento di lasciare andare la vostra attenzione su ciò che è di minore luce sapete ora che la luce ha il controllo tutto ciò che dovete fare è seguire la consapevolezza che la vostra luce il vostro amore la vostra verità è la cosa stessa che sta salvando il vostro pianeta così come siete venuti a fare non c'è nient'altro da fare se non permettere alla luce che siete di brillare pensate a questo in profondità anime carissime consentite alla luce che siete di brillare e in questo modo diventate un eroe un eroe vi siete mai considerati tali non è per ego che ve lo suggeriamo ma per l'amore più alto del riconoscimento di sé voi voi guerrieri che avete scelto di essere qui avete innalzato la vostra conoscenza la vostra vibrazione in un luogo che serve la luce senza doverci provare avete elevato il vostro spirito in una conoscenza superiore di ciò che è non avete bisogno di conoscere nient'altro che la pace all'interno del vostro essere e quando vi fidate di questo e riposate la vostra anima all'interno di questo aiutate anche il pianeta a sollevarsi infatti la beata madre gaia non si è forse trovata a volte a sprofondare nel pantano eppure eccovi tutti qui facendo ciò che fate sapendo ciò che sapete e tirandola fuori portandola in un luogo dove può permettere al battito del suo cuore di fluire ancora una volta a un ritmo che è favorevole all'amore divino che lei è voi ognuno di voi venite a servire ed essere al servizio e ciò in cui eccellete onoriamo ognuno di voi wow questo è fluito in modo denso e veloce grazie se non lo diceste alcuni di noi potrebbero pensare che ci stiamo inventando tutto che stiamo usando tutto ciò che pensiamo di sapere per sentirci meglio a volte i dubbi si insinuano per suggerire il contrario perché ci viene mostrato così poco che si presenta come un buon momento e questo carissima blossom è il motivo per cui continuiamo a ripetere le stesse cose per inculcarvele come direste voi perché siamo consapevoli delle operazioni che dovete affrontare sul vostro pianeta siamo consapevoli che siete programmati per concentrarvi su ciò che è squallido e debole eppure grazie alla vostra diligenza divina in amore state vedendo questo programma state superando questo condizionamento e quando lo fate quando lo riconoscete per quello che è vi svegliate diventate voi questo sta accadendo a molti in questo momento vi state liberando e nel farlo con ogni nuova svolta con ogni nuovo risveglio la luce che è l'amore che siete voi come uno si rafforza sempre più luminosi sempre più forti siete voi come uno che si fonde e ogni volta che un'altra anima tira indietro le tende e vede la compagnia che stanno per fare la luce dell'uno illumina il suo raggio in un'altra frequenza superiore siete vi considerate di essere l'esempio di questa luce vi state concentrando sulle vostre passioni sulla vostra gioia per mostrare agli altri il percorso che vi porta al ponte state notando che gli altri sono attratti dai vostri modi dal vostro modo di essere semplicemente essendo voi voi siete ed essere voi è tutto ciò che serve ancora una volta grazie mi ritrovo a capirlo sempre di più e mi rendo conto che non importa anche se mi sento molto giù non sto rovinando il piano perché la profondità della fiducia nella mia luce è diventata molto più forte indipendentemente dal fatto che io stia ridendo o piangendo perché non importa come vi sentite in un dato momento quando sapete chi siete e la missione che siete venuti a compiere sapete che sia con la pioggia che con il sole la forza della vostra luce vi protegge mi piace aspettiamo pazientemente che avvenga la fase 2 un blocco mondiale chi avrebbe mai pensato che fosse qualcosa da attendere con ansia ma dimostrerebbe che stiamo andando avanti e si spera che le cose si mettano davvero in moto come avete detto voi vedete questo è ciò che intendo quando mi chiedo se tutto questo accadrà ho sentito dei presunti con rispetto parlando addetti ai lavori militari parlare di passaggio alla fase 2 mi fa piacere almeno sono sulla stessa lunghezza d'onda di di voi noi l'ho detto tante volte ogni tanto sembra così irreale tutto questo eppure no ciò che sta avvenendo lo fa perché si verifichi il più grande cambiamento di sempre sì avete attraversato guerre nel corso della vostra storia molto del lato scuro è stato mostrato ma basta una sola margherita per rompere una crepa in un sentiero di cemento perché l'anima sappia che c'è speranza anche questo mi piace eppure sembra tutto così incredibile molto di ciò che pensiamo stia per accadere per il meglio sembra così ridicolo per molti così tendiamo a tacere in questi giorni fino a quando non avremo qualche prova reale e questa sembra essere nascosta se vi chiedessi dove si trova il grande segno nel cielo direste che sta arrivando molto presto sì eppure non avete visto le prove di molti preavvisi che hanno avuto luogo io credo di sì ancora una volta questi incredibili spettacoli nei cieli potrebbero benissimo essere falsi e sebbene diciate che capiremo la differenza dall'energia di questi spettacoli io non ci riesco e non dovrei venire da voi a chiedere ogni volta cosa è reale cosa no voglio dire non dovremmo essere in grado di farlo da soli ora sì lo siete e lo fate no io no sono ancora confusa su tante cose eppure se non fossimo disponibili cosa ne faresti di tutto questo questa è una domanda stupenda e la risposta è non lo so perché voi siete e siete stati disponibili eppure blossom ti chiediamo di considerare questo è noto che noi siamo uno pertanto ogni cosa ogni pensiero tutto ciò che è è accessibile a tutti tutto ciò che noi sappiamo lo sai anche tu accetto questo concetto eppure non mi sembra che sia così quando sei intrappolato in questo abito corporeo all'interno della vibrazione terrestre deve accettarlo giusto no perché l'unità non è tagliata fuori per quelli che si trovano sul pianeta terra di nuovo diremmo diremmo che è la programmazione l'abuso di informazioni a pesare su di voi a farvi credere questo non l'avete detto voi stessi abbiamo detto che nella densità delle vibrazioni del vostro pianeta non siete in grado di accedere alla piena conoscenza è pronto la signora confusa di nusa qui voi siete la luce voi siete l'amore siete la verità siete l'io sono mentre all'interno dell'abito del corpo umano molto viene trattenuto perché è troppo vasto per essere contenuto nel cervello umano tuttavia tiratevi fuori da questo e volate a casa ogni tanto e tutto quello che è è a vostra disposizione volate a casa ogni tanto volate a casa ogni tanto la coda inizia proprio dietro di me ma so cosa intendete tutti noi sappiamo cosa intendete beh mi sembra giusto lasciarlo qui per ora e così in fretta l'ora è passata grazie per il vostro continuo sostegno ingratitudine inamorevole io sono voce marina